Sharon Minniti, originaria di Reggio Calabria e dottoressa in scienze della formazione primaria, è la fidanzata del tiratore olimpico Massimo Spinella. I due sono una coppia da quasi dieci anni e presto diventeranno ufficialmente marito e moglie. Sui social diversi scatti insieme, tra cui quello in cui la ragazza mostra l'anello di fidanzamento. Massimo Spinella è uno dei tiratori della Nazionale Italiana in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella mattina del 5 agosto, l'atleta azzurro si è qualificato al sesto posto nella specialità della pistola 25 metri. Per quanto riguarda la sua vita privata, è fidanzato con Sharon Minniti, che presto diventerà anche sua moglie. I due sono una coppia da quasi dieci anni. Al momento si trova a Parigi per supportare l'avventura olimpica del futuro marito. Stando alle informazioni che si leggono sui suoi profili social, Sharon Minniti vive a Reggio Calabria e ha una laurea magistrale in scienze della formazione primaria, conseguita nel marzo 2024. Non si conosce con precisione la sua età né la sua professione attuale. Sul suo profilo Instagram, privato, condivide diversi scatti della vita quotidiana e di coppia con Massimo Spinella. L'ultima foto insieme al fidanzato risale ad aprile e mostra l'anello di fidanzamento. I due convoleranno presto a nozze dopo quasi dieci anni di amore.